All'interno di tutta la struttura. E' chiaro che l'atleta che sta all'interno di una federazione nazionale e all'interno di una federazione internazionale, in proporzione al suo valore diventa un oggetto di grande interesse, economico, di sponsorizzazione, di appartenenza a questo club o a quell'altro club. Quindi è chiaro che sull'atleta vengono esercitate delle pressioni, delle richieste e spesse volte l'atleta si misura con i propri limiti o con le proprie difficoltà e la sproporzione rispetto alle esigenze. E' normale sentire persone intorno ad un atleta di valore che auspicano e si aspettano medaglie, come se le medaglie si potessero produrre a ogni piesso spinto. Invece l'atleta vive anche con le sue incertezze, con i suoi momenti di difficoltà. E purtroppo ho constatato nella mia esperienza che lo scivolare nel doping avviene soprattutto nei momenti di difficoltà ed è in quei momenti che vengono esercitate sull'atleta delle pressioni e viene prospettato un modo per uscire dalla crisi. Quindi è d'accordo con te che l'atleta ha le sue responsabilità, ma è altrettanto chiaro che le responsabilità riguardano anche altri e in una scala di priorità, a mio modo di vedere, le responsabilità dell'allenatore, del dirigente o del medico, di squadra si collocano ad un livello superiore. Il primo di questi due libri importanti che ha scritto sul doping si intitolava Lo sport del doping del 2012. Lo sport del doping è pubblicato con un grande editore, di cui magari parliamo. Lo sport del doping, chi lo subisce? E l'abbiamo detto sostanzialmente l'atleta. Chi lo combatte? Chi combatte il doping? Ma guardate, a livello di doping dei singoli, molte persone sono contrari al doping. Quindi in fondo lo combattono già con la propria opposizione. Però non è che ci sia un'organizzazione. Per quanto riguarda invece proprio andarlo a colpire il doping nelle sue matrici, e questo il pubblico non lo comprende, il pubblico non si rende conto che il doping non è il caso del singolo, il caso di Pantani o di Svazzer. Quelli sono piccoli tasselli di un mosaico. Il doping dipende da altro. Il doping dipende dalla voluta disattenzione delle istituzioni, dal ritardo perenne tra lo sviluppo dei metodi doping e i metodi per rintracciare il doping, un ritardo voluto spesse volte, e poi da un sistema lasso, una rete a maglie larghe che lascia passare tutto. Faccio un esempio. L'atleta soltanto alla terza volta che si rifiuta a svolgere un test antidoping viene sottoposto a un procedimento disciplinare. Cioè significa che per un anno e mezzo c'ha due jolly a disposizione. Può tranquillamente doparsi e rifiutarsi ad un controllo. Non risponde al campanello di casa quando lo chiamano. Quindi questa è una scappatoia assurda. L'atleta c'ha un secondo punto di fuga. E questo secondo punto di fuga è la comunicazione della propria reperibilità. Fa dei giochini semplici se è in malafede. Facciamo conto io sono qui a Verbania, ma stasera verso le 11, quindi domani ho dichiarato che sono a Verbania, stasera verso le 11, quando tutti gli uffici della federazione internazionale sono chiusi, io mando una comunicazione e dico che parto e sarò a Palermo. Capite che vanifico qualsiasi possibilità di controllo perché non ci sarà mai la possibilità di riorganizzare un viaggio per chi l'ha già organizzato, a parte la dispersione enorme delle risorse, ma il tempo. No, entro le 24 ore. Andiamo avanti. L'atleta ha diritto ad essere controllato solo in una finestra oraria. Significa che può prendere un dosaggio di farmaco basso, tale per cui lo smaltisce nell'arco delle 24 ore e nella finestra del giorno successivo è pronto per fare i controlli. Inoltre, una federazione può fare i controlli a sorpresa oppure può non farli. Li può fare in gara. In gara sono molto meno efficaci perché gli atleti arrivano organizzati per superarli. E questi sono tutti i motivi per cui alla fine la percentuale dei positivi è 0,3-0,4%, al punto che paradossalmente ci si può chiedere a tutta questa organizzazione che costa centinaia di milioni di euro o di dollari, quello che volete, decine di laboratori internazionali, centinaia di organizzazioni, corti di giustizia per prendere lo 0,3% degli atleti? Se è così il doping non esiste. Se invece esiste queste organizzazioni capite che sono di pura apparenza. e se invece esiste queste organizzazioni capite che sono di pura apparenza. Il sistema sportivo forno a un sistema sportivo reale? Possiamo dire che poi io sono l'ultima cosa che farò. Purtroppo dobbiamo scappare rapidamente, perché devo prendere un treno e andare a Pistoia. Quindi a nascettura ci arrestiamo e io eventualmente vi fiamo i libri chi lo deve prendere. Questo libro mi trovo che... Poi la domanda. Vale la pena prendere tutti i soldi per prendere? Purtroppo fa che sono l'antidoping che si è sempre con il dietro per prendere. Allora, siamo sicuri che gli atleti non sono un tipo di presenza, un domanda da noi che è proprio il paciente. No. Assolutamente no. Il tecnico lo capisce dalle forme del corpo, lo capisce dallo sbalzo dei risultati, lo capisce dalla illogicità delle carriere o dei risultati, lo capisce dai gruppi di appartenenza a determinati allenatori o a determinati club, quindi sono tanti i fattori. E poi ci sono infinite, o meglio, diciamo frequenti occasioni, che derivano soprattutto dalle indagini giudiziarie. A me spesso è capitato di essere consulente delle procure della Repubblica. In tante indagini, mi ricordo una indagine fatta a Bologna che coinvolgeva 154 palestre e c'erano atleti di 15 discipline sportive che afferivano alle palestre dove si rifornivano di anabolizzanti o di altri farmaci. Mi ricordo Oil for Drag, che è partita dai ciclisti amatoriali e poi ha coinvolto atleti del pattinaggio, dell'atletica leggera, del nuoto, del tennis, del calcio, della palla nuoto. Adesso non mi ricordo tutto quanto. Mi ricordo le indagini su Francesco Conconi. Negli archivi di Francesco Conconi c'erano molti sport con dati assolutamente anomali. Questa mattina ho ricordato, ho detto agli studenti, che io stesso all'interno dell'indagine di Bolzano che fu promossa sulla positività di sbazzere prima delle Olimpiadi di Londra, io fu incaricato dall'Agenzia Mondiale Antitoping di esaminare i materiali giudiziari sequestrati e mi imbattei nel computer di un medico italiano che era anche medico della Federazione Internazionale, trovando un database gigantesco con 12.500 risultati di analisi tematiche, migliaia delle quali, almeno 2.000 delle quali, del tutto anomale. Lì c'era già disegnato lo scandalo dei russi, perché i russi, Kenioti, Etiopi la facevano da padroni con le anomalie e poi dopo si è capito il perché i russi avevano messo al libro paga il presidente della Federazione Internazionale, la Mindyak, il predecessore di Sebastien Kho, e il responsabile antidoping di Gabriel Dolè. Però mi chiedo chi si interessa di queste cose? Lo sportivo meglio? O si interessa dei fatti interessanti? Che cosa sono queste organizzazioni? C'è il rischio che chi lo ha capito e chi cerca di denunciarlo rimanga solo. Un po' come è successo a te. Arrivando a Schvasser, rappresenta il punto di svolto della tua carriera, perché dopo una vita passata a combattere il doping a vari livelli, accetti di allenare un atleta che aveva ammesso di fare uso di doping e scommetti sulla sua voglia di ripartire pulito. E quindi contrasti anche quel principio che ogni tanto corre mezzo agli sportivi, non ancora presi o puliti, che chi è dopato una volta lo sarà per sempre e quindi va eliminato dallo sport. Accetti una sfida così importante e ne paghi un sacco di conseguenze. Guardate, qui c'è da porsi una domanda. Se lo sport è l'anticamera del trono dove siede l'eventuale creatore di tutto il mondo e noi siamo i suoi vice e i padri eterni che giudicano, allora sarà così. Io lo sport lo vedo come uno strumento di crescita, di continua trasformazione di ognuno di noi, di superamento delle nostre carenze, anche cercare di guardare gli altri e trarre, ammirare o ammettere la capacità degli altri. Quindi quando Svazzer mi disse una frase che per me fu risolutiva, l'ho ricordata stamattina ai ragazzi. Ricordiamo che abbiamo parlato ai ragazzi del liceo cavalierico di Birbagna. Svazzer quando si rivolse a me per chiedermi di allenarlo mi disse io non voglio chiudere la mia carriera con una pagina nera io vorrei mostrare i miei figli perché voglio averli quanto prima che mi sono che ho cercato di ritornare con le mie forze e ottenere quello che potevo e a un certo punto ho usato una frase ma io ce l'ho il coraggio di mettermi in gioco e rischiare di non ottenere i risultati di prima. Lei ce l'ha il coraggio di sporcarsi le mani con me e fu una frase risolutiva per me perché io pensai ma nessuno nessuno ha il diritto di ritenere di sporcarsi le mani con un'altra persona soprattutto se questa persona vuole cambiare non esiste la persona è un'evoluzione continua che facciamo le condanne definitive è una cosa per me ridottante e poi pensai ma io sono diventato una specie di icona ma che cos'è l'icona l'icona è un qualcosa di schematico di simbolico di morto serve a bilanciare c'è il doping poi c'è l'icona contro il doping prima di tutto io volevo fare l'allenatore e non me l'hanno fatto fare più perché dopo le prime denunce sono stato tagliato fuori definitivamente allora preferirei che piuttosto che essere celebrato come icona che sono una persona viva si ragionasse sul sistema che mi ha schizzato per sempre dopo le mie denunce per esempio e quindi ho pensato ma io voglio rifare di nuovo l'allenatore e farò con questo ragazzo io cercherò di portarlo dove posso intanto metterò oggi in un atleta che si è dopato e quindi cercherò prima di tutto di carpire da lui per filo e per segno quello che ha fatto e gli ho raccolto tutto quello che il sistema sportivo di fronte agli atleti dopati non fa mai non offre mai due anni di sconto ma tu mi dici tutto quanto tutto quello che è riscontrabile si guarda bene il sistema sportivo perché questo potrebbe scoprirlo coperta corta e allora non pone domande e quindi non esplora quindi non impara mai niente dai casi di doping quindi non cambia mai niente quindi è tutto uno status quo e quindi questo fu il motivo per cui decisi perché in quel frangente cosa ti convinse che era diverso da altri atleti dopati e pentiti o falsi pentiti ve l'ho detto che io ero consulente della procura quindi conoscevo tutta la documentazione conoscevo migliaia di mail conoscevo centinaia di documenti e quindi io mi preparai meno 200 domande che gli ho posto in due incontri uno a Milano di circa 4 ore e uno a casa mia di circa 5 ore e lui mi doveva dare delle risposte che erano coerenti con la documentazione e date quelle risposte accettato l'incarico hai posto dei paletti rigidissimi a quel punto ma lui già è un ragazzo intelligente vi dico subito così qualcuno che è colpevolista che vuole ammazzare la gente definitivamente si rinforza Alex Swazzer è un ragazzo meraviglioso di una correttezza totale ha sbagliato in un momento di grande debolezza poi se volete ci ritorniamo sull'argomento però lui stesso si rendeva conto che io dovevo prendermi delle garanzie quindi lui mi ha detto prof mi chiamava così decida quello che vuole io lo faccio e quindi ho preso un accordo con il reparto di ematologia dell'ospedale pubblico San Giovanni di Roma con un chimico direttore del laboratorio di analisi del San Camillo e del Forlanini due importanti ospedali di Roma e chiesi loro di elaborare un programma di controlli a sorpresa che loro facevano liberamente quindi Alex Swazzer prima che il sistema sportivo cominciasse a controllarlo era iper controllato in più lo portavo ogni 15 giorni in un laboratorio di fisiologia e lo sottoponevo a dei test aerobici si chiamano analisi del respiro accuratissimi per cui mi accorgevo di una minima variante cioè signori parliamoci chiaro ero molto ma molto al di là del sistema antidoping che fa acqua da tutte le parti quindi sempre sicuro del fatto mio sempre confortato dalla coerenza e continuità dei risultati il problema è un altro il problema è che questo ragazzo era allenato in maniera pessima il problema è che io ho riorganizzato tutto il suo allenamento oggi pranzo con il nostro conduttore riorganizzatore di questo convegno riportavo degli esempi in cui ho avuto la fortuna o forse l'intuito di capire quali erano i punti deboli e ho lavorato su un atleta nuovo io faccio l'esempio di un pianoforte di cui prima veniva utilizzato solo un tasto in maniera monocorde resistenza chilometri io i tasti ne avevo utilizzati a decine diversi uno dall'altro e quindi è uscita fuori una melodia perché il talento non glielo ho dato io ce l'aveva lui talento straordinario è un crimine che un atleta di quel genere sia stato lasciato solo in un momento di grande depressione e allora facciamo un salto indietro vince Pechino perché lo lasciano se stesso perché appena vince a Pechino dopo un po' di giorni di riposo torna dal suo allenatore che è il vostro corregionale qui di Cuneo e trova una colonia di cinesi maschi e femmine marciatori e marciatrici scioccato lui mi dice ma a questo punto come fa ad allenarmi se deve allenare tutti questi cinesi e poi che fa allena i miei avversari quindi è chiaro che questo allenatore aveva come dire reso pratica il successo di Svazza e le Olimpiadi che aveva colpito moltissimo questi cinesi da lì nasce il primo sbandamento contrasto e rottura del rapporto con l'allenatore a questo punto la federazione di atletica non è pronta a proporgli una persona adeguata che potesse seguirlo dovremmo aprire delle parentesi sul gruppo sportivo militare dovremmo aprire delle parentesi sui militari concedetemi per non essere diciamo che nel libro di parentesi ce ne sono tante se poi se leggono è chiaro lì non è che i militari aiutano ad una democrazia e trasparenza dello sport non lo so chi di voi si sente un uomo che appartiene ad una democrazia si possono accettare otto gruppi sportivi militari sento dire ma senza i militari non possiamo far fare sport di alto livello agli atleti ma quelli sono soldi dello Stato non sono soldi del generale o del colonnello della guardia di finanza o dell'esercito e lo Stato quei soldi per gli atleti di talento li può veicolare in maniera diversa che rispetta le regole della democrazia attraverso l'ente locale che li dai li finalizzi a una borsa di studio a un progetto lavoro ad una previdenza per il futuro li finalizzi ma quella persona è una persona libera ecco fatemi chiudere questa parentesi se no mi inguaio sempre di più allora siamo a Schatzel che patisce quel momento si perde un pochino non ottiene più risultati nel frattempo si è vicina al 2012 si è vicina a Londra e quindi Schatzel comincia si allena da solo pretende di allenarsi da solo fa degli errori madornali perché esagera vuole strafare cade in uno stato di stanchezza comincia a perdere le gare allora tutti prendono le distanze i russi gli dicono ma vieni da noi cambia nazionalità noi prendiamo questo quest'altro quest'altro lui si frastorna comincia a fare ricerche in internet alla fine decide di andare in Turchia allora vedete voi lo potreste etichettare un dopato ma in realtà le persone sono una diversa dall'altra andiamo un po' a cercare questo invece di rivolgersi come fanno tutti gli atleti di livello all'infermiere disonesto che ruba i farmaci nella farmacia dell'ospedale o al farmacista che sono pochi disonesto che ti cede i farmaci oppure semplicemente ad un pacchetto che ti arriva via internet di farmaco ordinato questo si assume tutto sulle sue spalle va in Turchia e compra l'epo rischiando di essere fermato in Dogana una cosa inverosimile una cosa mai vista io neanche ci credevo poi inizia l'indagine di Bolzano e mi rendo conto dai biglietti dagli appunti dalle risultanze del viaggio che questo così ha fatto una persona quindi che si assume tutte le responsabilità sulle sue spalle nel bene e nel male e quindi in questo stato di depressione io rimango sconcertato dalla lettura dei documenti giudiziali quando vedo che un medico della federazione di atletica gli prescrive un antidepressivo per i mail senza parlare senza stabilire un contatto umano senza affidarlo ad una persona che potesse dialogare con lui che potesse capire i problemi in maniera distaccata impersonale tu non sei già più la gallina dell'ecoveo d'oro sei uno che sta perdendo le gare io ti seguo e non ti seguo ti sto vicino e non ti sto vicino ma perché non hanno creduto in lui e non l'hanno sostenuto in quel frangente credevano fosse finito o superficialità allora il sistema è l'asso è ambiguo lui chiedeva di andare negli Stati Uniti militare lo mandavano negli Stati Uniti senza permessi non esiste una richiesta di permesso facevano finta di niente lui andava negli Stati Uniti chiedeva di andare alle Canarie a incontrare Michele Ferrari e andava alle Canarie gli mettevano pure alle costole un atleta che poi telefonava in caserma e diceva ai carabinieri parlava con Michele Ferrari al mattino poi il pomeriggio ma perché ce l'avete mandato perché non lo controllate perché non lo avete chiamato quando è tornato e gli avete detto che hai fatto non so se vi rendete conto della lassità del sistema il sistema fa finta di non vedere se va bene tu sei la mia gallina dalle uova d'oro se va male sono responsabilità tue quindi l'atleta è solo in una solitudine totale e infatti paga sbaglia e paga non farà Londra farà fatica a riprendersi nella sua disperazione di persona sola approda te nel 2015 ci mette un po' a convincerti quello che dicevamo prima lo porti a Roma gli fai spendere anche un po' di soldi nel senso che Donati ha costruito tutta una rete intorno a Schwarzer non costosa gratuita tutte le persone che l'hanno aiutato però si pagava i controlli del San Giovanni perché era giusto pagarli e non con il ticket li pagava per intero ogni esame quindi le ultime riserve della vecchia Olimpiade di Pechino se le investe lì si pagava l'albergo si pagava il mangiare poi da un certo punto che poi veniva a Cina a casa mia la sera però però nel libro si dice 4.000 euro al mese gli costava quindi insomma un investimento gli ultimi soldini li punta tutti i soldonati e torna a fare prestazioni importanti risponde in una maniera eccezionale io ho già detto più volte io non sono il re Mida conosco il mio mestiere ma quello è un super talento non è che io se avessi preso un altro marciatore di valore infinitamente minore avrei ottenuto i stessi risultati questo mi te lo fuori dalla testa l'allenatore può incidere in quella certa percentuale ma questo aveva un talento enorme che non era stato mai utilizzato mai scoperto gli dicevano che era lento questo era un super veloce gli dicevano che doveva fare la 50 km perché non era adatto sui 20 km ma questo era adatto pure per una gara di 5 km o di 1000 metri se ci fossero stati talento incredibile che rispondeva all'allenamento in un modo eccezionale grande capacità di recupero io mi accorsi presto che sarebbe tornato ai vertici mondiali poi continuavo a migliorare e mi ricordo che a un certo punto dissi al presidente del CONI al presidente della FIDAL guardate che questo appena rientra il campionato del mondo vince con 4 minuti di vantaggio sul secondo vince con 3 minuti e 40 perché negli ultimi 10 km gli dissi pensiamo all'allenamento di domani mattina vai al traguardo facile e qualcuno ti propose il giorno prima di non vincere? sì un giudice internazionale vicino appunto a quell'allenatore vostro corregionale alla famiglia perché questo è allenatore dei cinesi il primo allenatore di Svazza il fratello è il capo della marcia mondiale che diciamo in mano la marcia è un giudice internazionale molto legato alla famiglia la mattina antecedente al campionato del mondo per nazioni a Roma alle 6 e mezzo del mattino mi arriva una telefonata io mi spaventavo perché c'era un mio papà anziano che poi dopo è morto e quindi mi spaventai a morte mi risponde questo dice sono Nicola Maggio era un giudice internazionale sale volevo dire domani dica a Svazzer di lasciar vincere Talent Talent era il campione olimpico che lo aveva attaccato duramente sui giornali nei giorni prima quindi forse bisognava compensarlo di questo attacco commissionato lo dica anche ad Alex fino all'ultimo momento lasci vincere Talent io non dissi niente a Svazzer affrontai la gara con un'angoscia terrificante perché pensavo che me l'avrebbero squalificato i giudici una marcia presuntamente scorretta una marcia così corretta mi raccomandai solo di essere prudente e lui per 25 km mi chiede ascolto e poi a un certo punto lontano da me durante il giro cominciò a marciare al suo ritmo quando passò davanti a me c'aveva già 200 metri di vantaggio al giro dopo c'aveva 400 metri e la data di quella gara quando era? la data? la data di quella gara era l'8 di giugno l'8 di maggio del 2016 2016 2016 tenete a mente l'8 di giugno ha fatto una gara l'8 di maggio mondiale la vinta ma il primo gennaio cioè 5 mesi prima era successo qualcosa a casa sua un controllo sorpresa esattamente anche in questo senso è una storia incredibile senza senza eguali e quindi avrebbe dovuto suscitare uno scandalo e annullare immediatamente la sua positività la sua urina viene prelevata tanto bisogna spiegare questo il controllo antidoping di svazzere viene deciso dalla federazione internazionale alle ore 13 del 16 di dicembre del 2015 un'ora dopo che svazzere ha finito di deporre in tribunale contro un medico della federazione internazionale quindi c'è una successione temporale immediata e chiarissima una vendetta o meglio un modo per cercare di screditare la testimonianza agli occhi del giudice il controllo viene fissato di lì a 15 giorni per il primo dell'anno non ci sono precedenti di controlli fatti agli atleti a Natale o a Capodanno non è che non si possa fare ma se tu lo fai tutti sanno che l'urina non va al laboratorio antidoping l'urina te la tieni per un giorno e una notte non l'atleta ma il controllore non l'atleta ma il controllore perché il laboratorio antidoping è chiuso l'ispettore addetto al controllo fa una verbalizzazione nell'accompagnamento dell'urina e dice che arriva a Stoccarda in un ufficetto di una nell'ufficio di una ditta che si chiama GQS e lui dice arrivo l'1 gennaio poi però mi tengo l'urina fino alla mattina del 2 gennaio e la consegno ad un soggetto che poi l'ha portata a Colonia nel laboratorio antidoping invece che succede che otto mesi dopo chiamato a deporre davanti al tribunale sportivo antidoping a Rio de Janeiro dove ci trascineranno lui spaventato dal clamore che ha assunto la storia dalle chiare denunce di manipolazione noi nel frattempo abbiamo fatto una denuncia contro ignoti per avvenuta manipolazione cambia la versione e dice quello che è accaduto realmente dice io sono arrivato nel pomeriggio dell'1 gennaio ho messo l'urina in frigo era festa me ne sono andato a casa e l'urina è rimasta lì domani mattina l'ha detto al trasporto o l'ha portata quindi cosa cosa significa che a differenza di quello che prevedono i protocolli viene lasciata lì non viene tenuta dall'ispettore che ha raccolto l'urina direttamente fino al momento in cui viene inizia la fase dell'analisi qui siamo al primo gennaio l'urina è incustodita per tutte quelle ore e poi però dal primo gennaio arriviamo alla data della gara mondiale che voi non sapete nulla nulla tutto si svolge dietro le quinte anche in questo senso non ci sono precedenti quindi 5 mesi per avere un'elaborazione il 13 di gennaio il laboratorio antitopico di Cologna dà la risposta dell'analisi e dice è negativa non ci sono non ci sono tracce di niente e voi andate avanti alle narvi ma noi non sappiamo niente lui controllava semplicemente negativo ma anche nei controlli successivi sempre negativo 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 quindi per lui il controllo del primo gennaio era uguale ai controlli di quelli dopo eccetera eccetera fino a che evidentemente chi sapeva che là dentro si dovesse trovare assolutamente qualcosa insiste sul laboratorio affinché rifaccia un'altra analisi con un metodo ai radioisotopi al carbonio che ti trova una quantità di sostanza equivalente ad un cucchiaino di caffè versato in una piscina olimpionica è chiaro io ho fatto l'esempio del poliziotto che fa una normale perquisizione e poi chi ha messo la bustina dentro la fodera della giacca di una persona dice ma tu hai cercato nella fodera della giacca e trovi la bustina quindi in questo caso chi ha insistito è evidente che sapeva che avrebbero trovato una piccola quantità di testosterone perché piccola perché se avessero messo una quantità grande la quantità grande rilascia talmente tanti ormoni che sono l'impronta del donatore cioè di quello a cui appartiene l'urina e quindi sarebbe stato palese che non era l'urina di svazzere versata dentro allora hanno versato una piccolissima quantità di urina dopata per non cambiare il profilo degli ormoni questo è il motivo per cui il laboratorio di Colonia non ha trovato questa cosa poi l'ha trovata con un metodo più raffinato il 13 di maggio il laboratorio antidopiche di Colonia trasmette questo esito di positività e loro se lo tengono nascosto e quindi con disprezzo massimo non solo di svazzere ma del CONI e della federazione dell'atletica non gli danno nessuna informazione quindi il CONI fa la rappresentativa olimpica fa le iscrizioni la FIDAL fa le iscrizioni eccetera eccetera il 21 di giugno un mese e otto giorni dopo comunicano questa notizia e fissano loro la contraanalisi di lì a due settimane e noi tentiamo di averla subito la contraanalisi ci dicono che il laboratorio è impegnato invece poi il laboratorio ci dirà a Rio de Janeiro no noi eravamo disposti ad anticipare ma la federazione internazionale ci ha detto di no in altri termini ci spingono fino alla chiusura delle iscrizioni per le olimpiadi con l'acqua alla gora l'impossibilità di difenderci nel momento in cui proviamo a difenderci ci rivolgiamo al tribunale sportivo antidoping nazionale il tribunale sportivo nazionale antidoping si dichiara incompetente e ci dice rivolgetevi al tribunale sportivo internazionale quindi Svazzere perde un grado di giudizio immediatamente ci rivolgiamo al tribunale sportivo di Losanna e che ci risponde d'accordo concessa l'udienza ma perché non vi siete rivolti prima al tribunale sportivo nazionale italiano e lì ci accorgiamo che ci avevano fregato in pieno vi lascio per di retroscena eh di chi guida questo settore del suo passato beh nel libro c'è tutto beh vabbè insomma e quindi noi ci troviamo in questa situazione trasportati chiediamo l'udienza a Losanna dove ha sede il tribunale eh internazionale antidoping e il tribunale ci concede l'udienza per i primi di luglio la federazione internazionale d'atletica si oppone e dice no è troppo presto abbiamo bisogno di tempo per esaminare i documenti i documenti ce li avevano solo loro non c'avevamo niente l'atleta dopo un controllo antidoping che non c'ha niente a tutto chi fa il controllo ai moduli del controllo ai risultati delle analisi alle perizie c'ha tutto noi non c'abbiamo niente l'atleta non viene lasciata un campione della sua pipì da poter tenere a casa guardate io vi devo dire che il mondo dello sport è un mondo di da penaggine lo devo dire ma deve venire un giudice penale a dire è più garantito il latte di un produttore di mucche di un allevatore di mucche della brianza dell'urina di un atleta sottoposta a un controllo antidoping vuol dire che noi abbiamo l'anello al naso scusatemi allora io ho proposto silenzio totale da parte degli atleti chiedete una terza provetta perché al momento il controllo si svolge in questa maniera l'atleta produce l'urina viene messo in un recipiente questo recipiente viene ripartito poi in un flacone A e in un flacone B flacone B di meno flacone A di più vengono sigillati davanti all'atleta e questi due flaconi se li porta via l'ispettore voi capite che se fanno la manipolazione della sua urina lui non ha nessun modo per dire ma questa non è l'urina mia è l'urina di un altro inquinata non c'è niente io ho proposto che venga lasciata una terza provetta piccola piccola viene affidata ad un laboratorio che ha tutti i criteri di accredito ISO che vogliamo intoccabile sia per l'ente che ha fatto il controllo sia per l'atleta disponibile si apre soltanto nel momento in cui dovesse risultare una positività è chiaro che le manipolazioni le stronchiamo sul nascere in quella maniera ecco in questo modo avete dimostrato che c'era stata una manipolazione ma perché perché il mondo dello sport aveva voluto colpire proprio voi ma l'ho spiegato lui per screditarlo e vanificare la sua testimonianza io vi ricordate vi ho accennato a quel database che ho scoperto dentro la io poi ho spinto affinché quel database venisse preso in esame ho spinto affinché la commissione di inchiesta sul doping dei russi che era stata aperta gli fosse consegnato il database che era stato scoperto e non glielo avevano consegnato e quindi quando ho insistito si è scatenato il putiferio contro di me perché quel database che io nel libro definisco il database della vergogna doveva rimanere in secondo piano quindi possiamo anche dire che hai recuperato l'atleta dal punto di vista sportivo ma insieme con le vostre denunce vi siete anche un pochino infilati nell'angolo si è una storia complicata può darsi che se io mi fossi limitato ad allenarlo senza fare senza fare spinte affinché lui parlasse e dicesse tutto quello che aveva preso quindi senza coinvolgere dei medici nelle accuse può darsi che magari mi avrebbero tollerato non lo so perché può darsi pure che sarebbe stato considerato intollerante intollerabile questo grande miglioramento perché nel momento in cui lui avesse cominciato a vincere le gari avrei sbeffeggiato tutti dicendo ma scusatemi questo a pane e acqua ottiene questi risultati ma che razza di becilli siete che avvelenate gli atleti delle peggiori cose se è possibile vincere in questa maniera e tu sei convinto che se fosse arrivato a Rio l'oro era suo hai dato 4 minuti al campione olimpico scusate qual era il problema da allora era migliorato di molto ma gli avrei fatto fare tutte e due le gare e l'avrei bevita tutte e due bene qua finisce la carriera sportiva di Schwarzler solo una paura che finisca pure il nostro tempo infatti volevo arrivare finisce la carriera sportiva ma comincia una carriera nei tribunali una battaglia che lui vince si comincia una storia bella o di speranza perché il tribunale svolge un'azione giudiziaria obbligatoria essendoci stata una denuncia da parte di Svazzere contro ignoti e quindi che succede? chiede alla federazione internazionale e al laboratorio di Cologna e alla UADA l'urina e lì gliela rifiutano questo fa il tribunale di Bolzano il tribunale di Bolzano gliela rifiutano con pretesti dicendo che no loro hanno la competenza che loro la custodiscono non si poteva rompere la catena di custodia immaginate il magistrato a dire come la magistratura rompe la catena di custodia la assicurerà in maniera ancora più salda poi il giudice si rivolge per rogatoria al giudice di Colonia alla fine riescono ad ottenere la possibilità di avere questa urina loro vorrebbero dare solo il campione A che è un campione aperto non quello B sigillato alla fine il giudice italiano riesce a convincere il giudice tedesco a dare anche il campione B per farvela breve ad un certo punto non possono fare altro e quindi va a Colonia il perito del giudice che è il comandante del laboratorio RIS dei Carabinieri di Parma si reca lì per prendere in carico questa urina gli danno il campioncino dell'urina A lui aspetta a questo punto il campione B per prendere un campioncino di urina del campione B invece gli portano una fialetta senza sigilli gliela sbattono in malo modo sulla scrivania e gli dicono questo è il campione B e questo colonnello dei Carabinieri fortunatamente dice no questo non è il campione B non ci sono i sigilli è completamente diverso una provetta di plastica che cos'è questa? e a questo punto si mette in contatto con il giudice di Colonia e il giudice di Bolzano i quali per telefono fanno capire chiaramente che denunceranno il laboratorio che è considerato il più accreditato al mondo i tedeschi eccepibili tedeschi questo lungo cammino si conclude con una sentenza si conclude con una sentenza che io accludo nella parte finale del libro il lettore potrebbe cominciare a leggersi la sentenza poi si legge il libro penso che il giudice sia stato più duro di me nei linguaggi il giudice conclude il soggetto si propone l'archiviazione del suo caso per non aver commesso il fatto dopodiché il fatto è stato costruito le risultanze di laboratorio lo dimostrano con altissima probabilità pressoché pari al 100% dicono la IAF e la UADA nel corso del procedimento hanno prodotto una serie di falsi hanno prodotto false prove hanno tentato di sviare il procedimento giudiziario alla fine del procedimento hanno addirittura nominato come perito loro a tempo scaduto evidentemente questo soggetto avrebbe dovuto sovvertire tutto quanto un soggetto particolare il professor Pascali dell'università di Roma che aveva un precedente precedente di una certa gravità era stato condannato per falso imperizia ecco questo falso imperizia riguardava l'omicidio di una ragazza di 15 anni in quale lui non aveva trovato tracce di DNA negli indumenti dell'assassino peccato che poi non fidandosi di lui aveva affidato l'analisi ad altra persona che ha trovato queste tracce e l'assassino che poi ha ammazzato pure una donna in Inghilterra è stato arrestato questa sentenza di archiviazione arriva questa sentenza di archiviazione arriva a febbraio e il sistema sportivo se ne è fregato febbraio di che anno? il sistema sportivo febbraio di che anno? febbraio di quest'anno esatto ricordiamo tutto il tempo che è passato? sì siamo ormai dal fatto siamo a 5 anni e per lui la carriera è finita gli hanno rubato rapinato l'Olimpiade di Rio e l'Olimpiade di Toggio vi dico soltanto che lui ha tentato di allenarsi fino a che sperava che avrebbero preso in considerazione la conclusione giudiziaria fino a che un giorno gli ho detto Alex io non ho più l'animo di continuare a farti fare sta fatica ogni giorno lasciamo perdere io scrivo nel libro abbiamo spento i motori e Alex poche settimane prima ha fatto in allenamento il raccordo del mondo di 10 km spenti i motori ma ne avete cesi altri nel libro c'è tutto ci sono anche un sacco di nomi che qui non abbiamo fatto per questioni di tempo ma Donati non si tira indietro infatti stamattina gli ho chiesto quante querele le avesse preso perché fa veramente accusa con un nome e cognome che sarà interessante leggere farei così per tenerci 10 minuti per firmare le coppie proprio due domande al volo ma da chiudere in 3 minuti se le avete velocissimi ha 36 anni capisce con tutta la forza d'animo io non me la sento di dire tira avanti fino alle Olimpiadi di Parigi anche questa è gentaglia lo firma in un'altra maniera si inventano un'altra cosa prima che arrivasse la positività da Colonia avevano aperto un procedimento disciplinare per dimostrare che i test di allenamento che lui aveva fatto per le strade o in dei campi diciamo mai utilizzati nelle gare fossero una specie di gare fatte prima della fine della sua squalifica pre-Londra capite bene se non fosse arrivata la positività lo bloccavano in un'altra maniera arrivavo a più d'altro quindi con quale animo io posso spingere sto ragazzo a rifare 3 anni di allenamento che avrà 40 anni a Parigi ancora una domanda ma no io non voglio dire questo perché sarebbe sarebbe una generalizzazione sarebbe ingiusto nei confronti degli atleti puliti e degli allenatori puliti ingiusto in realtà il mondo dello sport è un mondo molto composito dove ci sono tante persone per bene purtroppo quelli disonesti sono disinvolti e raccattano risultati quindi non dico che le vincono tutte loro le medaglie ne vincono una buona parte anche con soggetti di minor talento tra gli atleti puliti che la perdono per questo motivo ancora una ma vede qualche analogia c'è l'analogia è la strumentalizzazione della persona perché anche nel caso di Pantani è evidente Pantani era Pantani aveva vinto il giro di taglia di vettanti quindi era già un fenomeno quando passa professionista si accorge che arrivava ottantesimo settantacinquesimo settantesimo non ci capisce più niente io sono un brocco rispetto a questi tutti i fenomeni e lì qualcuno gli spiega questo professor Conconi il suo direttore sportivo guarda che poi bisogna crescere diventi più grande e quando sei più grande devi fare le cure e lo portano a Ferrara allora io ho lui dice 70 70 quando hai la sfida ancora 20 anni può farle ma le energie finiscono e poi tutto si paga si paga adesso io non sto qui a dire si paga si paga sulla propria salute in maniera molto dura e quindi ecco che cosa è accaduto è accaduto poi che per un problema di contrasto fra squadre la Saeco in un controllo ematico Pantani non arrivava al controllo nella stanza rispetto a quando era stato convocato i corridori della Saeco che occupavano il secondo posto in classifica con Gotti mi pare insistono dicono no facciamo come l'anno scorso che Pantani si è presentato mezz'ora dopo avete capito perché quel tempo serviva per diluire questo facevano tutti i corridori civisti trasfusione emissione di liquido per abbassare la concentrazione delle sostanze e quindi l'hanno costretto ad arrivare lì e l'hanno trovato con un ematoglite un po' più alto Pantani è caduto nella disperazione perché sapeva perfettamente che tutti assumevano quindi Pantani dice hanno colpito me hanno distrutto me questo è il punto se ci pensate un altro genere di 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 ingiustizia hanno colpito uno quando andavano colpiti quasi tutti e lo hanno distrutto quindi la solitudine la strumentalizzazione in quel momento lui è e quindi torniamo all'inizio l'atleta che rimane solo contro un mondo sì in più lì c'erano altri problemi c'era una dipendenza dalla cocaina facevano tutti finta di niente ho spiegato che ci fu una un blitz dei carabinieri del NAS che trovarono nelle mani del medico di squadra i reagenti per vedere la positività o meno altezza della cocaina chiesero conto perché sapevano sospettavano che fosse di pantani il problema e che il medico avesse questi reagenti per tenere sotto controllo la situazione il medico dice no io assumo se tu assumi non ti devi misurare perché lo sai già Sandro con questo devi prendere un applauso e cinque minuti per firmare il libro grazie 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 grazie